Ciao amici, bentornati sul canale Giornali del Popolo Italiano Chanel Totti è rifatta? La figlia del cupone e Hilary Blasi ha risposto alla domanda tramite un video su TikTok. Chanel Totti, la seconda figlia di Francesco e Hilary Blasi, è rifatta? La ragazza ha di recente postato un video su TikTok che in breve tempo è diventato virale. Ma qual era il contenuto? Leggi anche, Albano Neiguai, conduttore famoso lo accusa, mi deve 30.000 euro, ecco chi l'ha detto e cosa è successo Chanel Totti è rifatta? La sua risposta in un video Chanel Totti condivide diversi video su TikTok e molti di essi diventano virali, soprattutto quelli con i suoi genitori Francesco e Hilary. Ultimamente, però, la ragazza ne ha postato uno che ha fatto davvero discutere, molti le hanno chiesto se sia rifatta, insinuando che voglia ricorrere alla chirurgia estetica come sua madre. Per rispondere ai suoi hater, Chanel ha usato nel suo video un audio famosissimo di Eleonore Ferruzzi in cui si sente la ex GFina dire, comunque, al momento la giovane di casa Totti non ha ancora fatto uso di chirurgia estetica, ma ha ammesso che in futuro potrebbe ricorrere a qualche ritocchino. In fondo, che male c'è? Eleonore Ferruzzi idolo delle più giovani non solo Chanel, comunque, adora Eleonore Ferruzzi, anche Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso, ha pubblicato di recente un video su TikTok in cui cita la ex vippona di Signorini, il video di Jasmine in carrisi seguici su Instagram cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.